Rifiuti in fiamme questa notte in via Lago Lucrino in località Picciola. Un ammasso di immondizia ha preso fuoco per ragioni ancora in corso di accertamento. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Salerno che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la zona. Quello di ieri è solo l'ultimo di una lunga serie di incendi di microdiscariche che hanno interessato l'area in questione. L'amministrazione dal canto suo annuncia un intervento deciso sulla problematica. La trascuratezza di questi anni ha portato a una marea, una miriade di microdiscariche abusive su tutto il territorio. L'accordo con i cambiamenti e con i vertici istituzionali molto forte che ha fatto sì anche di un conferimento notevolmente più importante rispetto al piano straordinario che avevamo. Quindi con questo accordo noi riusciamo anche nell'arco di poche settimane a smaltire completamente tutte le microdiscariche abusive. Smaltire completamente le microdiscariche abusive però non vuol dire poi ritornare ad avere lo stesso problema magari dopo qualche settimana perché c'è l'incuria o l'inciviltà di qualche cittadino o di qualche persona. Quindi contestualmente, parallelamente all'operazione di bonifica sul territorio comunale che faremo ci sarà anche un'operazione di controllo anche con la polizia municipale in borghese, anche con delle telecamere trappola, ovvero delle telecamere che ci consentono di posizionarle in varie postazioni perché dicevamo prima il territorio è molto ampio, sarebbe ingestibile, impossibile avere una sorveglianza perenne in ogni angolo della strada.